Indignados ancora una volta riuniti a Bolzano, dopo le proteste in occasione del convegno economico a Palazzo Mercantile, stavolta una ventina di persone armate di fischietto e cartelloni hanno scelto come location Piazza Erbe per dire basta agli sperperi della politica che sostengono, disastrano i conti dello Stato creando un debito enorme che ora pensano di pagare mettendo mano ai nostri stipendi. Siamo stufi che i politici ogni volta lavorano per loro, è scopo personale, si prendono un stipendio incredibile e il povero lavoratore che lavora che non arriva alla fine del mese, questa ingiustizia noi lottiamo per, io soprattutto personalmente, lotto per un futuro migliore, per i miei figli perché puoi avere una vita dignitosa senza tanta discriminazione contro l'essere umano, un futuro più umano se vorrebbe in questo mondo. Ogni anno sostengono gli indignados i costi diretti e indiretti della politica montano a quasi 25 miliardi di euro pari a 650 euro medi annui a contribuente. Per quanto riguarda la situazione locale, dopo mesi di discussioni è stato ribadito in Piazza Erbe, i nostri politici si vogliono privare di 226 euro al mese su un totale di 14.359 euro lordi mensili mentre il Consiglio Comunale di Bolzano, nonostante le promesse fatte in campagna elettorale, non ha voluto ridursi i compensi.